ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati ringraziamo subito banggood per averci mandato da recensire questo protection film glass per apple watch si tratta di una pellicola in vetro per apple watch 42 mm potrete acquistarla tranquillamente su banggood vi lasceremo il link sia in descrizione al video che in descrizione nella recensione vi ricordo subito di scaricare la nostra applicazione per ios se avete un ipad un iphone o un ipod applicazioni che troverete sul sull'app store o comunque in descrizione al video andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questa scatola sto facendo l'unboxing con voi troviamo al suo interno un vetrino per apple watch un alcol pre pad per andare a pulire il display una pannino in microfibra per andare a togliere la polvere e poi non so cosa siano guida stick guide stick per togliere penso il vetro nel caso in cui lo applichiamo vogliamo spostarlo e poi l'assorbimento di polvere che si utilizza sopra il display dopo aver pulito con alcol andiamo quindi ad applicarlo vi dico subito che in realtà io apple watch ce l'ho ormai da tre mesi non si è mai graffiato il vetro quindi in realtà questa pellicola serve solo per chi è effettivamente malato della protezione ha paura di veramente rovinare questo dispositivo io sinceramente vi dico l'utilizzo da tre mesi non ha neanche un graffio da nessuna parte ma andiamo quindi a mettere subito la nostra pellicola sull'apple watch vi mostrerò come si metterà e qual è l'effetto una volta applicata perché ovviamente essendo come iphone con i bordi leggermente stondati e in vetro non si potrà applicare a tutto il display quindi vi mostro come si mette e vi mostro qual è il risultato complessivo dopo averla messa quindi si pulisce il vetro come vi dicevo con la preparazione di alcol una volta pulito il vetro si può con il dust assorb assorbire tutta la polvere ma io sinceramente non ne ho e poi andiamo a togliere questa pellicolina sul posteriore del nostro vetro e andiamo ad applicarlo al nostro display una volta applicata al nostro display questo è il risultato devo dire che a luce accesa si nota poco poco nulla in realtà però devo dire l'effetto non è proprio bellissimo in quanto abbiamo comunque un rialzo sul nostro display per quanto riguarda la protezione sicuramente protegge da urti protegge da cadute e da graffi però ribadisco il display dell'apple watch non ha poi così bisogno di una protezione io ce l'ho da tre mesi non ho mai avuto un graffio rimane leggermente sollevato ma probabilmente perché io l'ho messo un po di fretta e non sono stato a vedere bene lo schermo e quant'altro però vi assicuro che mettendolo nella maniera giusta e rispettando bene il display non si formeranno delle bolle d'aria sul fianco che dire sicuramente una protezione in più una diciamo per chi ha bisogno per chi vuole proteggere al meglio apple watch perché ha paura di rovinarlo perché sa che lo utilizza magari in ambienti poco consoni all'utilizzo di questo dispositivo non posso che consigliarlo e sicuramente banggood offre un prodotto di ottima qualità lo avevo già utilizzato su apple watch ne ho acquistato un altro per farvi la recensione e parlarvene io il mio ho tenuto su circa un mese dopo di chi mi si è spaccato perché l'ho praticamente scaraventato contro un mobile e devo dire probabilmente senza questo vetrino avrei distrutto lo schermo di apple watch quindi non posso che ringraziare banggood l'acquisto vi rimando al link in descrizione ciao a tutti ragazzi da daniele per spazio high tech ciao a tutti